La primavera di Praga è stata un periodo storico di liberalizzazione politica avvenuto in Cecoslovacchia, all'epoca in cui questa era sottoposta al controllo dell'Unione Sovietica. Questo evento significativo ebbe luogo nel 1968 e fu guidato da Alexander Dubek. Vediamo alcuni dettagli interessanti su questo capitolo della storia, punto contesto storico. La primavera di Praga iniziò il 5 gennaio 1968, quando Alexander Dubek divenne segretario del Partito Comunista di Cecoslovacchia. L'obiettivo principale era concedere nuovi diritti ai cittadini attraverso un decentramento parziale dell'economia, e la democratizzazione punto le riforme includevano un allentamento delle restrizioni alla libertà di stampa e di movimento l'evasione sovietica. Tuttavia, le riforme della primavera di Praga non furono ben accolte dai sovietici punto dopo il fallimento dei negoziati. Un corpo di spedizione militare dell'Unione Sovietica e degli alleati del patto di Varsavia invase il paese. Questo evento portò a un'ondata di emigrazione verso i paesi dell'Europa occidentale, normalizzazione e, conseguenze dopo l'invasione, la Cecoslovacchia entrò in un periodo di normalizzazione. Uno leader successivi ripristinarono le condizioni, politiche ed economiche antecedenti a Dubek, grazie al controllo del Partito Comunista di Cecoslovacchia KS. La primavera di Praga ha ispirato la musica e la letteratura, come le opere di Vaclav Avel, Karel USA, Karel KRYL e il romanzo di Milan Kundera. L'insostenibile leggerezza dell'essere.ca dal cantautore Francesco Guccini nel 1970 con la canzone Primavera di Praga che fu cantata e incisa anche dal complesso musicale Nomadi. Questo capitolo storico rimane un esempio di coraggio e desiderio di cambiamento in un'epoca di tensioni, globali e divisioni ideologiche le principali riforme della Primavera di Praga furono Libertà di stampa e di espressione. Durante questo periodo furono allentate le restrizioni sulla stampa e la censura, consentendo ai media di esprimere opinioni più apertamente decentralizzazione economica, si cercò di introdurre una maggiore autonomia per le imprese e le istituzioni locali, riducendo il controllo centralizzato dell'economia.democratizzazione, si cercò di coinvolgere maggiormente i cittadini nel processo decisionale, promuovendo una maggiore partecipazione politica e L'elezione di rappresentanti locali Diritti civili furono concessi maggiori diritti individuali, come la libertà di viaggiare all'estero e la possibilità di criticare apertamente il governo. Riforme nel Partito Comunista Aleksandr Dubek cercò di rendere il Partito Comunista di Cecoslovacchia più aperto e responsabile nei confronti dei cittadini tuttavia. Queste riforme furono di breve durata a causa dell'invasione sovietica che pose fine alla primavera di Praga e ripristinò il controllo autoritario del Partito Comunista. Le reazioni internazionali alla primavera di Praga furono varie e complesse. Ecco alcuni punti salienti. Occidente-Stati Uniti inizialmente. Gli Stati Uniti furono cauti nel criticare apertamente l'invasione sovietica per timore di una possibile escalation della guerra fredda. Tuttavia, in seguito condannarono l'azione sovietica e offrirono supporto politico alla Cecoslovacchia e Europa Occidentale, paesi europei espressero preoccupazione per l'invasione e condannarono l'uso della forza contro un paese sovrano. Alcuni paesi intrapresero azioni diplomatiche, ma non furono in grado di impedire l'occupazione sovietica. Blocco orientale Unione Sovietica Lurs giustificò l'invasione come un atto di difesa del socialismo e cercò di ristabire il controllo sul paese. Dubek fu costretto a ritirare molte delle riforme. Altri paesi del patto di Varsavia La maggior parte dei paesi del patto di Varsavia appoggiò l'invasione sovietica, temendo che la liberalizzazione cecoslovacca potesse minacciare la loro stabilità interna. Organizzazioni internazionali ONU e l'Assemblea generale dell'ONU condannò l'invasione sovietica. Ma il Consiglio di sicurezza non riuscì a prendere misure efficaci a causa del veto sovietico. Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa cisce. La Primavera di Praga influenzò le discussioni sulla sicurezza europea e portò a creazione della CSC Enel 1975. Opinione pubblica a livello globale, molti intellettuali, artisti e attivisti si schierarono con la cecoslovacchia e criticarono l'invasione sovietica appunto le proteste. Studentesche e le manifestazioni di solidarietà si verificarono in tutto il mondo in breve. La Primavera di Praga suscitò reazioni contrastanti, ma evidenziò anche la complessità delle relazioni internazionali durante la Guerra Fredda.